Pescara perde a Ponte d'Era, è finita 2-1 per i Toscani, ricordo la sequenza di gol, Milani alla 46esimo, alla 68esimo, il 2-0 di Magnaghi, poi Rauti accorciato le distanze, Rauti che aveva preso il posto di Dursi all'86esimo, traversa di Ferrari, crisi certificata dai numeri, soltanto due vittorie nelle ultime 11 partite, 12 se consideriamo anche la Coppa Italia, la sconfitta partita a Teramo, 4 le battute d'arresto in questo lasso di tempo, 2 sconfitte nelle ultime 3 partite di campionato dopo appunto quella partita a Cesena, ma per le interviste ci trasferiamo subito allo stadio Manucci di Ponte d'Era, dal nostro inviato Enrico Giancani, buonasera Enrico. Sì Massimo, buonasera in diretta, non siamo con le interviste perché tutta la squadra è sotto il settore dei tifosi, lo state vedendo con Diego Martelli in diretta, sono stati cori di disapprovazione, ma la cosa che vi voglio dire è che era andato via il tecnico Auteri, è stato richiamato dal team manager Francesco Troiano perché è dovuto andare anche Auteri sotto la curva, ora vedete Massimo i giocatori stanno andando via, c'è stato un lungo confronto, cori di disapprovazione da parte dei tifosi Biancazzurri con il tecnico Auteri che ripetiamo è stato richiamato dal team manager Francesco Troiano, è risalito il tunnel, è andato sotto la curva, il confronto è stato molto molto duro con la tifoseria, ora la squadra sta tornando, lo vedete negli spogliatoi dopo questa ennesima sconfitta, la crisi documentata da quello che dicevi giustamente tu da studio Massimo, ovvero due vittorie nelle ultime 12 partite, 13 non ricordo male se non ricordo male e il Pescara a questo punto è in gravissima difficoltà, probabilmente ma conta poco questa sconfitta non è meritata perché però ai punti il Pescara avrebbe meritato senz'altro qualcosa di più anche la traversa di Ferrari nella finale, però il Pescara la certezza è che ogni volta che un tre quarti campo il Pescara concede con troppa facilità le palle gol, eccola la squadra guarda Massimo che sta rientrando con il tecnico Gaetano Auteri che lo ripetiamo è stato richiamato dal team manager Francesco Troiano sotto la curva, era andato via il tecnico Biancazzurro è risalito dal tunnel dove ora la squadra sta scendendo ed è andato sotto la curva a parlare con i tifosi. Durante il confronto si sono alzati dei cori di disapprovazione Massimo chiaramente la tifoseria è ferita e vuole la scossa dopo questo ennesimo passo falso però voglio ripetermi dal punto di vista della prestazione, nel primo tempo le uniche occasioni l'aveva avuta il Pescara con Ferrari, colpo di testa con il miracolo del portiere di casa ma poi il cross di Cancellotti per Dursi che da 0 metri ha calciato male nel secondo tempo sul finire del primo tempo il gol su una grave disattenzione di Nzita che ha lasciato l'uomo sul vertice dell'area di rigore, sul secondo palo Milani appena entrato ha trovato vita facile un po' come aveva fatto Bernardotto contro il Teramo nel secondo tempo non solo Nzita, a dire il vero Sì, Zita sicuramente ha lasciato scoperta Sì, dicevo anche la pressione di Drudi su Magnaghi che ha fatto una grande giocata ma lì poi è completamente scoperta tutta la squadra l'uomo era nella zona di Nzita, probabilmente è mancato anche il filtro per far arrivare il pallone lì e poi nel secondo tempo una ripartenza, il gol di Magnaghi nonostante il grande intervento in precedenza di Sorrentino il gol di Rauti, bello nell'esecuzione, nel finale la traversa di Ferrari ai punti il Pescara non avrebbe meritato questa sconfitta ma quello che conta secondo me Massimo è che il grande difetto di questa stagione biancazzurra ovvero che ogni qualvolta gli avversari costruiscono qualcosa dalle parti del portiere biancazzurro il pericolo è notevole mentre il Pescara fa fatica a creare palle gol Sì, i soliti errori, tra l'altro oggi 5 opportunità per Ferrari, traversa compresa perché Ferrari ha avuto 4 occasioni più la traversa però al di là di questo, come dicevi tu, in difesa, nella fase di non possesso, nella difesa perché poi ci sono stati anche errori di reparto, Nzita che lascia scoperta la fascia non c'era bisogno in quel momento, si è completamente eclissato sulla gran giocata giustamente va sottolineato questo di Magnaghi che è un signor giocatore di questa categoria ma poi è mancata la copertura sul secondo palo come era successo nel confronto interno con il Teramo di otto giorni fa, insomma col Teramo poteva segnare anche Birligea in quella circostanza, segnato Bernardotto che entrambi sono stati lasciati colpevolmente soli proprio nel cuore dell'area piccola e che dire del secondo gol, la stessa cosa l'affondo di Milani, ho visto Clemenza per esempio che era entrato da poco che guarda l'inserimento senza opporre resistenza e poi lo stesso ingrosso che si fa bruciare da Magnaghi, per carità Magnaghi è un signor giocatore però bisogna essere più attenti in quelle circostanze, quindi errori individuali errori di reparto, il Pescara c'è una certezza purtroppo Enrico e viene dai numeri soltanto due vittorie nelle ultime 11 partite, per la precisione i punti ottenuti in questo lasso di tempo sono stati 11, due vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte due di queste sconfitte patite nelle ultime 3 partite, quindi insomma per molto meno Massimo saltano allenatori e non solo, quindi io credo che i numeri che hai sottolineato tu siano numeri chiari, precisi ed oggettivi e la società a mio giudizio non può far passare inosservata questa cosa che hai ribatito tu e qualche provvedimento deve essere preso per cambiare il trend di una stagione che oramai è compromessa, ma credo già da qualche settimana, per la corso al primo posto oggi il Ponte d'Era ha scavalcato il Pescara perché lo ha raggiunto numericamente in classifica ma lo scontro diretto migliore, Pescara deve darsi una svegliata anche per raggiungere la posizione playoff, è chiaro che uno sorrideva se lo diceva qualche settimana fa ma questi sono i numeri e io credo che per molto meno anche nelle stagioni precedenti si è visto un cambio di allenatorio, si è visto qualche provvedimento, credo che sia arrivato il momento di fare qualcosa perché è vero che contro il Teramo, contro il Siena e contro il Cesena chiedo scusa e oggi probabilmente il risultato è bugiardo, è altresì vero però che tutti i gol presi in questa stagione, tutti i punti persi per strada qualcosa vogliono pur dire no Massimo? Sì sì assolutamente, insomma Pescara che sembra davvero in caduta libera intanto stiamo rivedendo le immagini, i tifosi hanno chiamato i giocatori come dicevi tu, stava per imboccare la strada degli spogliatoi a Oteri poi è stato richiamato da Francesco Troiano il team manager infatti vediamo proprio a Oteri che evidentemente insomma il confronto è stato molto acceso con i tifosi presenti allo stadio Mannucci di Pontedera dove il Pescara aveva colto l'ultima vittoria esterna stagionale ma sono passati già due mesi lo scorso 19 settembre nella casa del Montevarchi che appunto gioca nello stadio del Pontedera quest'anno